L'obiettivo iniziale era quello di raggiungere 3.000 firme, oggi se ne contano oltre 4.000. La petizione popolare organizzata dal PDL biscelliese con l'intento di salvare la Casa Divina Providenza rappresenta la voce di tutti quei cittadini che non vogliono vedere fallire un ente importante per la città e per tutto il norbarese. Questa mattina l'euro parlamentare Sergio Silvestris insieme ad altri rappresentanti del PDL di Biceglie hanno ottenuto in piazza Vittorio Emanuele una nuova conferenza stampa per ribadire l'importanza delle firme raccolte e per chiedere tra le altre cose le dimissioni dell'attuale management, il commissariamento straordinario, la revoca immediata delle procedure di licenziamento avviate per 588 dipendenti. Una grande iniziativa popolare che ha avuto un grandissimo riscontro da parte di dipendenti, di sindacati ma anche di singoli cittadini, dei commercianti della città che hanno compreso quanto importante sia dare continuità a quest'opera. Purtroppo chi la gestisce oggi è manifestamente incapace, responsabile dei debiti e anche responsabile di una gestione poco trasparente. Per questo chiediamo il commissariamento dell'ente, chiediamo che una nuova gestione garantita da procedure di legge e da trasparenza accertata possa assumersi quella responsabilità per rilanciare un'opera che Don Pasquale Uva volle in questa città e che può ancora dare tanto in termini di assistenza e di occupazione al territorio. Non possono pagare i lavoratori il fallimento di una gestione che ha sommato oltre 400 milioni di euro di debiti. Chi ha fatto i debiti è il primo che se ne deve andare e poi vogliamo vedere tutte le carte, vogliamo i conti, i bilanci, gli atti, i contratti per capire come si sia giunti a un tale disastro e per costruire insieme con i lavoratori un percorso che non lasci nessuno per strada. Era necessario trovare delle soluzioni efficaci e credibili per rilanciare l'opera di Don Pasquale Uva entro il 9 novembre quando è prevista la sentenza del Tribunale di Trani circa l'istanza di fallimento della Casa Divina Providenza. Lunedì intanto le firme saranno inviate al legale rappresentante della Casa Divina Providenza, al Presidente del Tribunale di Trani, al Ministro delle Attività Produttive, all'Arcivescovo di Trani e al Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata presso la città del Vaticano.